Il fascino intramontabile del balletto forse più famoso al mondo ha conquistato il pubblico del Teatro Politeama di Catanzaro. La compagnia Balletto di San Pietroburgo ha portato in scena il Lago dei Cigni. 38 ballerini provenienti dalle migliori accademie di danza internazionali hanno interpretato sulle musiche di Tchaikovsky la romantica storia della Principe Saudet, l'eterna lotta tra il bene e il male e il trionfo dell'amore. Atmosfera lunare, scenografie impeccabili, movimenti armonici. Gli elementi che hanno emozionato la città di Catanzaro, straordinari anche i costumi creati appositamente per il tour italiano sulla base dei canoni artistici del grande teatro imperiale russo. Grazie a tutti.